ben tornati ben tornati a siamo noi essere figlio di un mito è una cosa davvero molto rilevante io non so cosa voglia dire essere figlio anzi figlia di due miti lo chiediamo alessandra panelli figlia cosa vuol dire beh non essendo stata figlia di altri non lo so voglio dire è stato sicuramente impegnativo impegnativo però anche molto arricchente non c'è dubbio le dice ho letto dalla sua scheda di aver trascorso un'adolescenza meravigliosa no perché a casa sua tanta bella gente penso a Mastroianni, Lavert Müller, Scola, Fellini è vero e non può essere che è meravigliosa un'adolescenza vissuta così beh sì perché ho avuto modo di stare in disparte perché ero adolescente ma anche prima ero piccola proprio e osservare e sentire quello che dicevano come giocavano come comunicavano l'uno con l'altro e questo è stato prezioso un bagaglio veramente prezioso e quel bagaglio lei oggi lo porta nella sua attività di teatro sociale di cui parleremo tra pochissimo però io voglio conoscere e far conoscere al nostro pubblico ancora meglio i suoi genitori visti da lei suo papà Paolo un debutto straordinario le ricordo Buonanotte Bettina il musical di Garinei e Giovannini da lì che inizia il mito di Paolo Panelli lui ha cominciato con l'Accademia d'Arte Drammatica e quindi da lì è stato un continuo di alternanza tra teatro, televisione e sicuramente i musical di Garinei e Giovannini sono stati fondamentali quello se pensa, aggiungi un posto a tavola se pensa Buonanotte Bettina lui l'ha amato particolarmente amava molto questo personaggio e amava molto il fatto che ci fosse un momento drammatico in cui moriva in scena e questo gli piaceva moltissimo Senta, lei dice una cosa che mi ha incuriosito perché lei dice papà in scena ero un teppista, ma che vuol dire? Perché si divertiva a fare gli scherzi ai colleghi anche quando non era possibile farlo, anche quando veniva multato lui si divertiva a scherzare, a fare delle piccole gag facendo ridere spesso tutti i compagni facendo rischiare, come dire, di far prendere delle papere ai compagni e quindi lui piuttosto sceglieva anche di prendersi delle multe, le pagava era più forte di lui per dare movimento anche alle repliche che lo annoiavano perché all'epoca si replicava per molto più tempo rispetto ad adesso e quindi fare la stessa cosa tutti i giorni mesi e mesi e quindi si divertiva così un diversivo, tanto per intenderci ma anche a casa era così? a casa anche era così sì, sì a casa era così gran divertimento anche a casa poi gli amici era così e devo dire che la comicità casalinga e con gli amici appunto di quello spessore era anche più raffinata più raffinata devo dire ma canzonissima che forse è stata la ribalta principale per il suo padre sicuramente un grande momento quello cosa ricorda? ma ero piccina quindi ricordo poco del i miei ricordi sono dopo quando l'ho visto in televisione quando l'ho visto lui era molto orgoglioso dei suoi colleghi lui era molto amico anche di Delia Scala e lei era una mammina per lui perché lo accudiva, lo proteggeva lo capiva, gli permetteva di essere così estroso come era lui perché la sua era una comicità molto originale voglio dire specie in quegli anni Il privato di Paolo Panelli perché al di là appunto della sua passione per il teatro delle ribalte nazionali in tv e nelle fiction e ho letto che aveva degli hobby particolari ad esempio la falegnameria sì, e come? prima della falegnameria la fotografia fotografia e falegnameria quindi in casa avevamo la camera oscura non si poteva entrare c'era tutto un rituale il trip della falegnameria della fotografia poi è passato al legno ma costruiva barche? no, non costruiva barche seguiva la costruzione di barche nei cantieri e poi non ci andava non andava per mare perché gli piaceva solo la fase della costruzione però costruiva mobili e poi ha cominciato a costruire anche invece proprio a fatto come per i quadri molto belli anche l'accademia, lei la citava prima è importantissima per Paolo Panelli sotto punti di vista diversi sua mamma Bice che credo abbia conosciuto proprio in quell'occasione l'accademia le posso chiedere che storia d'amore è stata quella dei suoi genitori? lui l'ha corteggiata molto lei inizialmente guardo le foto per questo distolgo lo sguardo lei inizialmente non era molto propensa e suo padre ancora di meno perché diceva no, ti devi sposare una persona un pochino più seria attendibile che è questo ragazzino piccolo, magro perché era molto magro da giovane e poi credo che la sintonia sul senso dell'umorismo e su tante cose della vita ha vinto l'ha conquistata la conquistata senta, lei dice una cosa bellissima di sua madre lei dice io l'ho adorata tanto che va al di là del rapporto tra madre e figlia anzi le femminucce dovrebbero avere una passione più per il padre e allora io oggi in virtù di questa passione per sua madre le chiedo come definirebbe vedendola oggi i vicevalori come madre o come attrice? come madre perché sono due cose per i figli abbastanza separate come madre naturalmente è stata una madre sintonica quindi io mi divertivo con lei ma mi sentivo anche amata da lei nonostante ci fosse poco perché tutti e due erano molto distratti e presi dal loro lavoro e dico per fortuna perché poi mia madre se ne sarebbe andata via così presto che per fortuna se l'è goduto questo lavoro parleremo di quel passaggio che è stato un passaggio traumatico per la sua famiglia però prima insomma il teatro anche per sua madre in particolare quello di rivista è stata una ribalta importantissima la ricordiamo tutti la ricordiamo in particolare nella memorabile apparizione del giornalino di Gian Burrasca la tirannica direttrice del collegio un ruolo straordinario lei si è divertita moltissimo a fare questo ruolo si è divertita moltissimo con i colleghi adorava Sergio Tofano e recitava in ginocchio quindi aveva delle ginocchiere di gomma piuma e poi gli è rimasto il segno sulle ginocchia sempre anche dopo perché faceva le prove a casa in ginocchio anche questo era un po' diciamo i psicologi potrebbero nutrirsi molto di questo e si divertiva ed era un ruolo che amato molto usando il fiorentino che era un dialetto della sua famiglia perché mamma non era tutta romana era nata a Roma ma tutta la sua famiglia era toscana la morte di sua mamma arriva in maniera prematura a Bicevalori muore a 72 anni no a 52 52 anni mi perdoni a 52 anni e per la famiglia fu un colpo durissimo in particolare a proposito di quella storia d'amore per suo papà per Paolo per il marito decisamente sì un duro colpo un duro colpo inaspettato perché appunto era giovane e quindi lui ha fatto molta fatica dopo è stato molto aiutato dagli amici sorretto sostenuto distratto però non è più stata la stessa cosa un momento importante per la famiglia però come dire quel DNA che lei ha respirato vede questa foto un po' di emozione c'è no? io voglio quel DNA lei lo ha respirato lo ha respirato tanto e naturalmente la sua carriera è stata una carriera di attrice anche di un certo rilievo ma la sua attività di oggi è quella che merita maggiore attenzione perché lei si occupa di teatro sociale ci spiega un po' che cosa è di che si tratta? le parole sono sempre un po' strette diciamo nella descrizione di queste attività diciamo che dal 95 io ho cominciato come attrice poi a un certo punto ho deciso di smettere ho deciso di occuparmi di regie di scrittura di testi e di laboratori con persone con difficoltà però me la spiega questa decisione del 95 perché a un certo punto decide di voltare pagina? non lo so neanche io molto bene cosa è scattato? è scattato la sensazione di poter essere più utile dall'altra parte piuttosto che fare che ho fatto con amore e con successo anche successo dedizione con colleghi che ho amato moltissimo però mi premeva questo aspetto di poter usare diciamo lo strumento del teatro della recitazione dell'arte in generale per essere di aiuto nel mondo del disagio vedo delle foto queste sono foto dei miei gruppi ormai da tanti anni diciamo sono persone con problemi psichiatrici ho anche lavorato molto con persone con disabilità fisica questo è il nostro ultimo spettacolo esodo adesso stiamo preparando un altro so che ha due progetti in corso di cui ci parlerà tra pochissimo però io vorrei arrivare a quella decisione del 95 perché da quella decisione poi nascono tante cose nasce ad esempio l'associazione culturale che non a caso si chiama diverse abilità e nascono tanti laboratori teatrali posso dire una cosa su diverse abilità? certo che uso diversamente questo questo termine non come si usa adesso dire quello è diversamente abile è il contrario ognuno di noi ha tante diverse nel senso di tante abilità tutte diverse l'una dall'altro perché tutti siamo diversi per me è molto importante specificare questa cosa è fondamentale il cateto è terapeutico in questo senso aiuta molto da sempre è nato per questo lei parlava prima di diversi laboratori diverse tipologie parlava del disagio psichico ma credo ci siano anche altri settori in cui il laboratorio teatrale ha funzione ma tantissimo il laboratorio teatrale funziona in generale io insegno anche al centro sperimentale di cinematografia e il laboratorio lo faccio attraverso il laboratorio teatrale e i ragazzi hanno comunque bisogno di questo rapporto con il corpo rapporto con il movimento con l'estro la fantasia quindi fa bene a tutti farebbe bene a tutti è chiaro che nell'ambito del disagio è un modo per uscire da un mondo chiuso per come dire superare i limiti del farmaco anche di situazioni in cui si è un po' usciti dalla società dalla società insomma quindi si vive un pochino che ti mette margine quando ci sono questi problemi attraverso queste attività c'è un grosso riferimento e risocializzazione insomma 22 anni fa questa decisione io credo che non si sia pentita per nulla anzi io credo che la soddisfazione sia vedere miglioramenti in quei ragazzi e io credo che di storie lei ne possa raccontare tantissime sì ci sono tanti miglioramenti miglioramenti del soggetto ma anche proprio del gruppo perché sì c'è capacità di maggiore attenzione di concentrazione ma anche la nascita di relazioni tra di loro appunto l'uscita di questo isolamento si vedono si frequentano vanno al cinema vanno in pizzeria vanno alle mostre vanno a teatro riprendono a vivere eh sì senta due progetti in corso qualcosa ci stava accennando prima ma adesso è il momento di svelarli due progetti in corso sono con il gruppo appunto del teatro nel sociale un pirandello impegnativo un uno nessuno centomila che basterebbe solo lavorarlo nel laboratorio per la quantità di cose che vengono fuori sull'identità di ognuno di noi anche in modo ironico non necessariamente drammatico e pesante e poi ho scritto un altro testo uno che avevo scritto qualche anno fa le tate era ispirato alla mia tata adorata che saluto se mi stesse per caso vedendo e che invece tratta di una grande amicizia tra tre persone non vogliamo non vogliamo svelare altro si chiama risonanze magnetiche e questo è il evoca evoca qualcosa eccola la mia tata eccola qui perciò come dire caposaldo prima gli ho visto brillare gli occhi adesso abbiamo capito il perché ma come possiamo vedere questi spettacoli c'è la possibilità prima bisogna farli quando andranno in scena esatto bisogna farli bisogna trovare chi ti aiuta a farli perché il teatro è in grande difficoltà il teatro ormai è diventato quasi un hobby uno deve fare un lavoro retribuito e poi fa teatro se qualche produttore magari ci sta ascoltando insomma mi sembrerebbe un'opera buona con Alessandra Panelli che è un nome di garanzia io le faccio questa domanda potrebbe sembrare un po' come dire superficiale e stupidotta però gliela faccio secondo lei cosa penserebbero del suo lavoro oggi suo papà e sua mamma beh diciamo mia mamma non ha visto nulla del mio lavoro e penso che sarebbe contenta mio padre ha visto l'inizio di questo lavoro ed era era orgoglioso sinceramente era contento quindi insomma voglio pensare che pensino bene lo penso anche io lei sa che quando ci si siede lì alla fine dell'intervista riprendendo le parole di Papa Francesco permesso scusa e grazie chiediamo ai nostri ospiti a chi si sentono oggi di rivolgere il proprio grazie e a chi chiedere scusa che è un po' più impegnativo del grazie sì sì no io ci ho pensato un po' quando mi hanno detto che forse mi sarebbe arrivata questa domanda no certa ma questa è una delle poche certezze esatto a me è venuta solo una grande banalità però io penso che le banalità esistono perché sono vere come dire e ho pensato di dire grazie agli animali che peraltro erano qui poco fa poco fa perché l'amore incondizionato che ti danno è un nutrimento impagabile io amo molto gli animali e scusa mi viene da dire scusa al pianeta per quello che gli stiamo facendo e questo è uno dei temi caldi a Siamo Noi ce ne occupiamo spesso però più si dice meglio è perché questo pianeta dobbiamo salvarlo anche perché abbiamo la responsabilità di consegnare ai nostri figli almeno un mondo che sia uguale a quello che ci hanno lasciato e salvarlo anche da chi lo vuole uccidere e sono tanti non solo un'utopia sempre per il profitto i soldi che il tema è sempre quello posso ringraziarla grazie a Alessandra Panelli grazie il teatro sociale grandissima frontiera e vedo la nostra Gabriella stavo guardando quelle belle immagini che veramente suscitano subito un sorriso da dentro ma poi apprezzavo quello scusa grazie abbastanza insoliti la casa comune grazie davvero grazie a voi allora stiamo per entrare nello spazio dedicato alla preghiera anzi alle preghiere quelle segnalate dai santi scritte dai santi oggi è una preghiera bellissima una preghiera semplice e potente è la preghiera di San Francesco ci ritroviamo qui tra poco grazie 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 grazie